La mattina del 16 marzo 1978 non è stata per la storia della Repubblica Italiana una mattina qualsiasi. È stata la data in cui la tragedia e il dolore hanno avvolto tutta la nazione. Aldo Moro, presidente della democrazia cristiana, veniva rapito in via Mario Fani da un commando delle brigate russe. I suoi cinque agenti di scorta tutti assassinati. Spesso si è parlato molto dei cosiddetti misteri di via Fani, come se parlassimo di un romanzo fantasy. In particolare si è discusso molto su chi fossero due persone a bordo di una moto, che a detta del testimone Alessandro Marini gli spararono addosso. Uno dei due, sempre secondo Marini, era identico all'attore Edoardo De Filippo. Sull'identità di questa persona ne sono state dette tante, forse troppe di cose, senza mai capire di chi si trattasse. In realtà si trattava di Alessio Casimirri, di cui nessuno ha mai notato la somiglianza con l'attore napoletano. Una dettagliata spiegazione su come si evince tutto questo ed altri misteri di via Fani li troverete spiegati nella mia pubblicazione Il caso Moro, misteri e segreti svelati, della Gelsorosso Editora. Il caso Moro, misteri e segreti svelati, della Gelsorosso Editora.